questo filo di intesa tra di loro soprattutto per la contemporaneità del mercato ciao a tutti ragazzi rieccoci qui e siamo tornati con un nuovo video e ci stiamo avvicinando ovviamente a fifa 23 e manca veramente pochissimo e non vedo l'ora di scoprirlo insieme a voi però intanto vi voglio dire che è successa una cosa molto molto interessante negli scorsi giorni c'è stata un'intesa tra i vari campionati e quindi sono molto molto soddisfatto di questo traguardo molto spesso ci sono state delle divergenze tra i campionati nazionali soprattutto di pro club questa volta invece c'è stata intesa proprio durante la sessione estiva prima che iniziasse la stagione di fifa 23 e quindi sono entusiasta di annunciarvi anche qui su youtube che con un post di twitter da parte della pagina myprocard che è un po' la pagina che media tra i vari campionati e non solo anche tra i vari giocatori cerca di dare informazione anche qui è stata molto molto convincente con questo post e lo andiamo a vedere subito insieme dopo il pronti via eccoci qui e quindi vediamo subito il post e lo commentiamo insieme sicuramente il fatto che vpg, vpl ed fvpa abbiano trovato comunque un accordo soprattutto per il mercato quindi non tanto per quanto riguarda magari altri aspetti che sono molto più intrinsechi della competizione stessa e quindi distanti gli uni dagli altri però hanno trovato comunque questo filo di intesa tra di loro soprattutto per la contemporaneità del mercato stesso che cosa accadeva? tante volte magari in un campionato il mercato apriva a novembre, in un altro a dicembre, in un altro a gennaio in base al calendario e che succedeva? che un giocatore magari giocava in una squadra in un campionato e quello stesso giocatore giocava in un'altra squadra in un altro campionato contemporaneamente secondo me era un qualcosa di infausto cioè un qualcosa di anormale e da aggiustare sicuramente quindi c'è stato comunque questo accordo che aiuta sicuramente al progresso del Pro Club sono molto molto soddisfatto e faccio i complimenti soprattutto ai gestori dei campionati io ho avuto molte divergenze con loro nel passato ma ho sempre sostenuto comunque il fatto che siano esistenti ancora sebbene il Pro Club comunque subisce colpi e danni non dall'interno bensì dall'esterno o comunque dal creatore e quindi ringraziamoli per questo gesto importante il messaggio che voglio darvi con questo video sicuramente è il fatto che adesso in questo momento se voi effettivamente non vi trovate bene con una squadra quando apre il mercato potete effettivamente muovervi senza alcun problema ma soprattutto potrete partecipare ai vari campionati con la stessa squadra d'accesso e quindi secondo me è una chiave di volta da registrare e io faccio fatica a ricordare un accordo del genere ovviamente ci saranno delle distanze dal punto di vista non so di provvedimenti riguardo il mercato stesso ogni mercato è a sé stante quindi se uno sbaglia a immettere un giocatore su un portale rispetto a un altro è comunque molto molto circostanziale e molto specifico ed è molto lontano dal accumulare questo errore questo mistake con gli altri campionati quindi il mercato soprattutto ripeto contemporaneo però sempre comunque slegato tra i campionati questo video non voglio troppo appesantirlo perché era soprattutto una notizia che volevo darvi per adesso vi domando ragazzi secondo voi secondo voi è giusto mettere il mercato contemporaneo ne troverete ovviamente sollievo con questa modalità di mercato di stagione e poi scrivetemi qua sotto se siete dei giocatori che preferite scegliere una squadra in maniera proprio decisa, razionale e portarla avanti almeno per un anno o se siete quei tipi di giocatori che cercate sempre il meglio quindi si selezionate una squadra però cercate sempre di trovare comunque sul mercato il club che più vi aggrata dal punto di vista sia tecnico sia comportamentale ragazzi con questo per oggi abbiamo concluso andiamo ai saluti abbiamo terminato ragazzi quindi vi ricordo che per seguirci vi basta mettere un like o attivare la campanellina qui sotto comunque commentare e condividere è sempre molto molto rilevante sia per il canale stesso sia per quanto riguarda l'aumento la crescita della community di ProClub ragazzi abbiamo terminato un saluto da Enrico Gianni ciao